Un taglier bianco, gambe mozzafiato in bella mostra, tacchi vertiginosi e microconna che fascia e lato B, perfetto. Peler Rodriguez, la donna dei desideri, tra set e tv trova anche il tempo per lo shopping. Scarpe, of course. Dimenticato il look della ragazzina, l'argentina è fashion anche quando prova le calzature in uno dei negozi più trendy di Milano. Con lei l'amica e manager dello spettacolo Laura Benegas.